piovono farfalle non sto più nella pelle buongiorno amici della zoccolo duro buongiorno 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 oggi è una di quelle giornate da pessimismo e fastidio pessimismo e fastidio o come diceva mio nonno voglia di lavorare saltami addosso non so se voi questi detti qua però non ci voglio fare niente non c'è lavoro mancano taxi non mancano clienti oggi proprio giornate morte e quindi il milan mi fa venire ancora meno voglia cioè io sento parlare del mercato del milan allora continuano a parlarmi di sto jurassic park eccetera eccetera soprattutto la gazzetta che sapete che ormai è diventata una vergogna mi sa tanto di beffa alla frattesi cioè che ne parlano per poi dire milan beffato jurassic park non arriva ma noi cioè ragazzi noi dobbiamo partire dalla difesa forse non è chiaro che non abbiamo difensori poi ci manca un centrocampista e poi forse alla fine parliamo degli attaccanti quindi di che cosa stiamo parlando anzi prima ancora dei difensori del centrocampista e dell'attaccante a noi servono i preparatori e un allenatore quindi di cosa state parlando cioè c'è qualcuno che si sta infiammando per questo calciomercato perché qua ragazzi voi non ci crederete parlano di 30 infortuni ma sono di più sono molti di più anche adesso si è fatto male jovic sarà una botta alla caviglia boh prendiamola per una botta alla caviglia musa era un affaticamento e l'avete contato tra gli infortuni musa tutti quelli della prevenzione li avete contati no non si è fatto male solo a titolo preventivo non l'avete contati quelli persone sono più di 30 sono molti più di 30 cioè 30 sono quelli riconosciuti quelli sotto banco non li avete contati perché sennò il record mondiale salirebbe io voglio un giudice del guinness dei primati che vada a ricontrollare gli infortuni del milan perché dato che abbiamo fatto il guinness facciamolo bene no andate a controllarli perché sono più di 30 voi dico io sono più di 30 e ancora non è finito l'anno perché la cosa più assurda è che questi sono ancora là stanno ancora lavorando lì c'era che era una roba è fuori dalla realtà che questi qua siano ancora lì a lavorare è una roba fuori dai confini della realtà c'è questi pare pare gira voce voce gira che questi abbiano saltato tutta la parte della forza questi geni proprio dei geni ha detto l'anno scorso abbiamo avuto troppi infortuni quest'anno sai cosa facciamo togliamo tutta la parte della forza così non ci saranno infortuni e saltano i tendini c'è posta proprio incapacità cioè se se sta roba è vera lì lo sapranno lì no se questi sono da licenziare subito questi fanno gli esperimenti con i giocatori non è che sono professionisti fanno gli esperimenti si è una roba è una roba che mi manda fuori di cabeza quindi a partire da questo non mi entusiasmo al mercato perché finché tu tieni questi qua cosa parli di mercato adesso parlano è tornato Matteo Gabbia no tanto speriamo che riesca a scendere dall'aereo senza senza rompersi qualcosa perché già sarebbe qualcosa ma una volta sceso dall'aereo lo metti in mano con i marcellai ma di cosa vogliamo parlare e parliamo di Matteo Gabbia parlano di Langley di Mucchiele di quel ma se non cambi preparatori cioè noi abbiamo un flessore a partita adesso giochiamo dopo domani tra l'altro per chi vuole c'ho due biglietti il primo arancio scrivetemi su instagram non so se vado io c'è uno sarebbe il mio e uno del mio socio che non c'è se qualcuno vuole andare ci mettiamo d'accordo qualcosa proprio super scontata scrivetemi su instagram scrivetemi su instagram stavo dicendo adesso c'è Mila Sassuolo ci saranno altri infortunati già parliamo di Jovic infortunato non giocherà Musa già lo sapevamo lo fanno passare per affaticamento era una lesione pure quella lo sappiamo ci saranno altri e se non li cambiano a gennaio ce ne saranno altri e poi altri e poi altri e poi altri perché questi non sono capaci e andiamo avanti così andiamo avanti così adesso con il Sassuolo in teoria riusciamo a mettere una mezza formazione però io quello che voglio vedere la Sassuolo oggi inizieranno a uscire le notizie perché poi voi sapete che la formazione del Milan Pioli non la dice eh no lui in conferenza stampa non vi dice niente non vi vuole dare il vantaggio quindi lui Pioli non la dice però la formazione la sanno tutti proprio perfetta con i cambi con i cambi ruoli tutto sanno tutto quindi vedremo se come spero metterà la difesa 3 che se non mette la difesa 3 e non stiamo bassi avete già capito eh Coppa d'Africa adesso se ne andranno anche giù ma mi pare di aver capito che li pagano anche cioè il fatto che Ciucu e Belaserva vanno in Coppa d'Africa e noi ci pagano qualcosa mi pare di aver capito così perché siete di Osimene che forse lo pagano quindi in teoria dovrebbero pagare anche noi io ribadisco tutti questi soldi non li spendete mettili in cascina perché io a giugno voglio Antonio Conti per quanto riguarda gli arabi ho fatto il video sul canale di Giargia che trovate in descrizione andate sul canale di Giargia vi dico la mia sugli arabi sapete che io sento le voci fuori dal coro quindi vi dico la verità di quello che so io andate a vedere sul canale di Giargia ultima cosa che voglio andare in chiusura voglio farvi capire soprattutto per i giovani che seguono questo canale siccome noi apparteniamo a un'altra epoca no? noi apparteniamo all'epoca della bresaola di Pippo Inzaghi della gente che si allenava mattina e pomeriggio roba che adesso non succede cioè adesso fanno una sessione neanche tutti i giorni di tre ore prima non era così prima si allenava la mattina si allenava il pomeriggio e si allenava tutti i giorni quella era la vita del calciatore oggi invece fanno un po' quello che vogliono ma oltre questo questo cosa comporta? il fatto che tu non ti alleni mattina e pomeriggio eccetera che poi io mi devo sentire McKennie santo io Dio McKennie che nel mio calcio al massimo sarebbe stato un nuovo panino del McDonald's invece pare sia un calciatore anche lui McKennie che mi dice spesso Leao e Ken sono a casa mia per fare musica partendo dal presupposto che la musica è un'altra cosa la musica è un'altra cosa poi fate rumore fate casino musica è un'altra cosa più anzi fate fastidio come dice mio figlio mi fai fastidio ecco mi fanno fastidio ma indipendentemente da questo tu quando non ti alleni devi stare a Milanello e imparare a tirare no a cantare santo Dio cioè devi avere l'ossessione per fare il calciatore devi essere malato come me devi avere che io non sono capace però sono malato di calcio devi avere l'ossessione quando non ti alleni devi stare lì e imparare a calciare che non sai tirare santo Dio che non sai crossare un pallone che metti le mozzarella ti sveglio no non che stai a casa di McKennie a fare le canzoni devi stare a tirare a calciare a vedere gli altri come fanno per imparare a battere i rigori perché tu non sei manco battere i rigori ma è possibile che vuoi diventare un campione e non impari a battere i rigori cioè capisci la differenza tra un malato di calcio uno che vuole diventare qualcuno nel calcio e uno che fa il calcio per hobby pagato pagato scusate l'occhio ma io ho preso una pallonata giocando a padel cioè capite la grande differenza la grande differenza è tutta là tra chi vuole diventare qualcuno nel calcio e chi invece fa il calcio per hobby il problema è che oggi sono tutti così i calciatori tutti eh io ho parlato di Leao ma ma anche gli altri facciano molto di più iscrivetevi al canale seguitemi sulla pagina mi fate un favore andate un minuto sulla pagina facebook e mettete il segui alla pagina lo zoccolo duro Luca Magno barra lo zoccolo duro perché devo arrivare a 5.000 sono a 1.300 qua mi mancano il 100 per arrivare a 20.000 tra l'altro se volete iscrivervi però seguiti la pagina facebook per favore ciao belli alla prossima